Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale Oggi siamo qua tornati in unissimo video Per parlare di Juventus Perché parleremo un po' di cose E un po' di notizie Ma anche le mie opinioni personali su diversi temi che voglio affrontare In questo contenuto Vi ricordo le due date principali Il 2 aprile, se tutto va bene E il 4 aprile Quindi mi raccomando segnatevele sul calendario Il 4 aprile ve lo ribadisco ancora Andrò allo stadio per Juventus Inter Mentre il 2-4 Un contenuto Importante Che avete già visto ma È comunque un contenuto a cui tengo particolarmente Parliamo di Juventus Parliamo di Juventus Vi dico Una mia considerazione per quanto riguarda Pogba Perché io Sento tanti Pogba ho già perso le speranze Mentre le altre invece sono ottimisti Per quanto riguarda Pogba D'ultima verità Io Su Pogba Sto perdendo le speranze Perché Più che altro perché Alfa Cadia secondo me è giunta al termine È giunta al termine È continuamente infortunato ragazzi Continuamente rotto Rolamente rotto dal punto di vista anche psicologico Se vogliamo chiamarlo così Veramente io Su Pogba Sto perdendo le speranze Un altro anno glielo concedo Un altro anno glielo concedo Ma se poi anche Il prossimo anno è così Fuori Perché Sto perdendo le speranze È veramente un punto Imbarazzante È un punto in cui Se per me la Colpa più grande Non c'era il giocatore Ma c'era la dirigenza Che lo vado ad acquistare Altro che io ero Per il Pogba In Ho pregato Affinché si potesse fare Cioè Si potesse fare questo affare Ma Non è tanto colpa sua Perché Per quanto riguarda Magari le operazioni dell'infortunio Sì Si poteva operare come no Ma Cioè Sono comunque scelte Ragazzi Che Veramente Ti ci vogliono comunque le palle Per farlo Cioè Per farle Quindi Lì sei a Quasi 50-50 Capite Cioè magari Se tu ti vai Che ne so Operare Poi finisce male Se poi non ti operi Magari finisce male Forse Pogba Doveva decidere meglio Però La colpa più grande È chi l'ha preso Secondo me Ha quelle cifre lì Ha quelle cifre lì Ora che abbiamo Una marea di giovani Secondo me Comunque Io Ripeto Un altro anno A Pogba Glielo concedo Perché un anno storto Può capitare Però è da ormai Due o tre stagioni Che Pogba Ha continuamente rotto Quindi Questo primo anno Magari chiude Un occhio Anche se Molto impossibile Nel secondo anno Se Pogba Così no Ma contentere anche Di una ventina Di presenze Di stagione Perché sarebbe Già un lusso Secondo me Sarebbe già un lusso Cioè a me Basta anche Che giochi poco Ma l'importante È che Pogba Mi renda sul campo Capite Mi renda sul campo Abbiamo tanti Vedi centrocampisti Bravi Paggiorno Catelli Il miglior Il miglior Il miglior centrocampo Della UE Degli ultimi 3-4 anni Secondo me E ve lo dico In maniera chiara E tonda Senza troppi Gili di parole Vedremo Zaccaria Io ero Uno a cui Zaccaria Paceva Cioè a me Zaccaria come giocatore Piace tanto In molti Veramente Lo scaricano Lo scaricavano Me lo ricordo Però È un giocatore Che a me Personalmente È piaciuto Tanto Per quanto riguarda C'è anche Miretti ragazzi C'è anche Miretti C'è Rubella Capite quanti Giovani Abbiamo italiani Capite Cioè Perché per esempio Non lo so Avrò la necessità Avrò Che ne so La necessità Di andare a comprare Un mininco Vistavic Io ero Per comprarlo Fino a un paio di mesi fa Però ho riflettuto Abbiamo Guardate Abbiamo Rubella Che è in prestito Ed entra Poi abbiamo Abbiamo comunque Locatelli Abbiamo fagioli Solo a più Vediamo Però Per quanto riguarda La più Non è Un'esigenza Il solo Rinnovo Magari andrò Controcorrente Però È un giocatore Che mi sta molto a cuore Un giocatore Che Gli ha con il meglio E che A determinate cifra Rinnoverai sicuramente Però Ripeto C'è Rubella C'è i fagioli C'è i locatelli C'è comunque Barra Che può crescere C'è comunque Miletti C'è I giovani Ovvio che Con i C'è I giovani Vanno comunque Diciamo Accompagnati Da senatori Da giocatori Magari Un po' Per esperti Quindi Rabio Si può tenere In questo senso Assolutamente Sì Però Abbiamo talmente Tanti giovani Bravi Che su me Andrò Ad acquistare Un centrodampista Ovvio Che se Se vai via Rabio Un centrodampista Serve Perché comunque Sì Che rientrano I vari Rovelli Eccetera Eccetera Ma Chiaramente Sì serve Un altro centrodampista Se vai via Rabio Per la mia Corrente di pensiero Poi Ripeto Rabio Sta crescendo La fiducia C'è più fiducia Di andare Comunque A rinnovare Il calciatore Su me Molto Dipenderà Da Allegri La permanenza D'Allegri Io non la ritengo Scontata In molti Sì Io sono uno Magari anche Dei Non dico pochi Ma Io non credo Allegri Resterà Al cento per cento Cioè io Credo che Allegri Resterà Però Non ne sono Convinto Al cento per cento Su me C'è un po' di probabilità Che magari Il prossimo anno L'allenatore Sia Tudor Non lo escluderei Non lo escluderei Assolutamente E Chiaro che Per molti Magari Tudor Può essere Un Sarri Però Tudor Comunque A me Piace C'è comunque Un allenatore Bravo Esperto Comunque Al Marsella Sta facendo molto bene Che magari L'anno scorso L'ha fatto mai Troppo bene Però È un allenatore Che Anche la Verona Immostra tanto Eccetera Quindi Senz'altro Un ottimo allenatore Su questo Non c'è dubbio Credo che il mio Preferito Come vi ho detto Più e più volte Resta Raffaele Palladino Per la panchina Perché mi piace Veramente Tanto Anche Sommarino A big squadra Si saprebbe comportare bene Ma almeno Questa è la mia Diciamo Opinione Poi Perini Comunque ha detto Che con la penalizzazione Si è compattata Ancora di più Che Comunque Questa penalizzazione È andata più carica Di affrontare Magari i match Le partite Capito Quindi io Magari Esagerò Esagero Esagero Non so Vabbè Magari esagero Però Io un gruppo Come la Juventus Non l'ho mai visto Veramente in questa Cioè Io Per quanto riguarda Altre squadre Io all'Inter Non vedo una squadra Che si Che magari Un giocatore Corre per l'altro Che aiuta L'altro compagno Cioè io all'Inter Non vedo il gruppo Perché magari Inzaghi Non è un allenatore Magari da Inter Però Anche al Milan Al Milan Il grande gruppo L'ho visto Un po' di tempo fa Un anno fa Qualche mese fa Ma adesso Piano piano Si sta iniziando a staccare Forse il Napoli Ecco Il Napoli Ha un grande gruppo Però tipo Anche secondo me La Roma È una squadra che gioca Secondo me Non Cioè Secondo me Non si aiuta Secondo me La Roma è una squadra Anche un po' egoista Se la voglio chiamare così Perché ovviamente Di bala Ti risolve le partite Invece La Juventus Ok L'anno scorso era diverso Però quest'anno Rente Tanti giocatori Stanno partecipando Stanno facendo anche Tanti gol Diverse Non sempre Gli stessi Comunque Il gruppo Si aiuta a vicenda Cioè i giocatori Si aiutano a vicenda Quindi Questa è senz'altro Su me È una roba Molto Positiva Ecco È una roba Senz'altro Molto Molto Positiva E nulla Queste erano un po' Le mie considerazioni Fatemi sapere Qui sotto Nei commenti Tutto Ciao Regalo Positiva Positiva